Buongiorno, bentrovati, è dura andare avanti, la situazione si fa sempre più difficile, vi racconto l'esperienza qui a Milano, città surreale, deserto, con quelle sirene delle ambulanze che si sentono sempre più spesso, veramente sembra di essere quasi in guerra, non si capisce come si possa continuare a vedere tutta quella gente per strada, quella gente che va a correre, cosa che magari non aveva neanche mai fatto prima, state a casa, questo è il monito, questo che mi sento anche di dire a tutti, mi raccomando poi se riuscite a trovarle mascherine per precauzione, per proteggere voi e soprattutto anche gli altri, difficile andare avanti in questo momento, ma vi leggo due messaggi che mi hanno particolarmente fatto piacere, anzi commosso, arrivati ieri, Davide che mi scrive grazie Marco per tutti i video che stai facendo in questo periodo per tenerci compagnia tutti insieme, riusciremo a sconfiggere questa brutta bestia, l'unione fa la forza, e poi soprattutto Luca che mi scrive, grazie Marco, sono di Piacenza, stiamo vivendo una situazione difficilissima, ti faccio i complimenti per la professionalità, riesci a strapparmi un sorriso, in quei dieci minuti stacco da tutto il resto con i tuoi video e questo è il mio ringraziamento particolare verso queste persone, per questo continueremo ad andare avanti trovando anche il giusto compromesso tra la leggerezza, tra il calcio, tra la ripartenza e il leggere i giornali e quei numeri che fanno così paura, quei 475 morti di ieri che non sono mai neanche stati raggiunti in un solo giorno in Cina, che fanno veramente paura e che bisogna cercare di sconfiggere tutti insieme questo nemico invisibile che si chiama coronavirus e che sta veramente mettendo in ginocchio il paese, si va verso una proroga delle misure straordinarie del governo che potrebbe anche togliere qualche possibilità di uscire nei prossimi giorni, staremo a vedere cosa deciderà il Premier Conte insieme insieme agli suoi collaboratori, però quello che fa discutere è sicuramente la situazione del calcio e il fatto che ancora ieri siano andati in scena l'ITI e per quando ricominciare, cosa assurda, vergognosa, con l'Otito e la Lazio spalleggiate da altre società che vorrebbero farlo subito, nonostante l'emergenza, non curandosi dei rischi a cui potrebbero mettere i loro tesserati, facendosi forte comunque del fatto che in altre regioni non è così come qui in Lombardia, non curandosi del fatto che ante altre squadre come la Sampdoria, l'Inter, la Juventus sono in quarantena, cercare di ripartire subito è veramente una cosa che non voglio neanche sentire perché presto, speriamo di no però, se con comportamenti del genere si rischia veramente di trasformare questa situazione che c'è in Lombardia, trasferirla in altre regioni e come si fa a pensare, a riprendere, ad allenarsi in questa emergenza sembra però che dopo la lite tra l'Otito e, guarda caso, Marotta, che invece vuole regole per tutti e rimandare la ripartenza ai primi di aprile, si vada verso questa soluzione e penso che sia doverosa ma che bisogna comunque aspettare quando tutto sarà un po' più tranquillo, quando quella curva inizierà a scendere vertiginosamente quando speriamo si vedano gli effetti di questo blocco totale che però ancora non sta dando i risultati sperati che però devono arrivare nei prossimi giorni e naturalmente incrociamo le dita, occhiali scaramantici qui per sperare veramente che si riesca a migliorare la situazione e non ho parole comunque per questi teatrini vergognosi del calcio con questi dirigenti che vogliono ricominciare subito e che non considerano la salute di tutti al primo posto poi però parliamo anche un po' di calciomercato ieri diversi testate hanno parlato della situazione di Icardi che potrebbe tornare all'Inter che potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint-Germain o anche di Lautaro Martinez con il Barcellona pronta, un'offerta complessiva con giocatori di 150 milioni però adesso tutto quello che è successo cambia tutto quindi aspettiamo di capire prima quando si ripartirà poi come si ripartirà e poi come anche andranno questi giocatori chiaramente bisognerà riparametrare tutto così come vi dico sta cercando di fare il Bayern Monaco che vorrebbe riscattare Ivan Perisic ma che ha chiesto insomma di ridiscutere quei 20 milioni che erano previsti per il suo riscatto e cercare di tenerlo a Monaco di Baviera per circa una quindicina di milioni anche per l'infortunio che ha avuto nell'ultimo periodo tutto però dovrà essere ridiscusso quindi probabilmente anche l'accordo col Paris Saint-Germain a meno che Icardi non faccia un finale di stagione stratosferico tutto ancora da vedere chiaramente il coronavirus cambia tutto quindi anche poco senso dire di quello che stava accadendo prima del Barcellona che non credo che adesso metta sul piatto 150 milioni per Lautaro Martinez questa crisi soprattutto dal punto di vista economico toccherà e tanto anche il mondo del calcio bisogna solo però sperare che si possa ripartire al più presto in totale salute in totale rispetto di tutti quelli che gravitano intorno al mondo del calcio ad esempio al Brescia facciamo i nostri auguri due dipendenti che lavorano in sede sono stati trovati positivi è stata chiusa tutta la sede del Brescia non ci sono solo i calciatori ma ci sono anche tanti dipendenti che lavorano intorno e anche a questi bisogna pensare in questo momento così difficile e complicato quindi aspettiamo di vedere quando e come si ripartirà prima di tutto la salute aspettiamo a tornare in campo però è giusto anche pensare di farlo perché la vita deve andare avanti e soprattutto dobbiamo cercare di sconfiggere il virus rimanendo a casa il più possibile uscendo solo per fare la spesa o andare in farmacia per importanti esigenze pensando soprattutto alla salute nostra e dei nostri cari mi raccomando iniziamo la rassegna stampa con le ultime notizie da Sport Mediaset in home page lo tito marotta scontro allenamenti domani la decisione Thunder negativi i tamponi Gallinari tira un sospiro di sollievo e poi auguri a Mazzone che compie 83 anni storia del recordman di panchine e mi stavo dimenticando auguri a tutti i papà perché oggi è la festa del papà una giornata però non felice perché si è spento anche a 83 anni Peirò uno degli artefici della grande Inter che vi ricorderete con quel suo gol d'astuzia permise la rimonta storica con l'Inter di Elenio Herrera che poi andò a vincere la Coppa dei Campioni un grande giocatore del passato nerazzurro naturalmente mandiamo le condolianze a tutta la famiglia nerazzurra e tutti quelli che avevano tifato per lui quindi aspettiamo la decisione della Lega Calcio che dovrebbe arrivare nella giornata di domani con la Serie A che a questo punto dovrebbe ripartire il 4 aprile mi correggo che però aveva 84 anni in un tweet la Liga anche ha espresso le sue sincere condolianze la famiglia e gli amici dello storico giocatore allenatore nazionale spagnolo in carriera vestì la maglia dell'Inter per due stagioni dal 64 al 66 era la formazione di Herrera con cui conquistò due scudetti una Coppa dei Campioni celebre su gol al Liverpool in semifinale una Coppa intercontinentale il ministro Spadafora invece ha dichiarato che la Serie A potrebbe riprendere il 3 di maggio ritengo che la Serie A possa riprendere a giocare il 3 di maggio poi valuteremo se porta aperte o chiuse questo dipenderà dalla situazione io dico che che ancora possiamo sì provare a fare delle previsioni ma bisogna navigare a vista alla giornata in base all'esito della situazione e ai numeri del contagio che sicuramente non sono adesso rassicuranti come possiamo vedere andiamo alla lettura dei giornali alla Gazzetta dello Sport in prima pagina i dubbi di Donna Rumma che potrebbe decidere di lasciare il Milan poco convinto dal progetto e da quello che sta facendo la società rossonera studia inglese lo mostra sui social così se non prolunga il portiere riapre alla Premier o al Paris Saint Germain in futuro tiene il Milan sulle spine e poi addio Peirò genio che lanciò l'Inter con la palla rubata la Ferrari detta la linea la diplomazia di Vinotto per il bene della Formula 1 possiamo rinviare le regole Gigio di You Speak English Donna Rumma goodbye Milan senza rinnovo Premier o Paris Saint Germain il progetto Milan non mi piace perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce contratti bollenti da Ibra al Pipita da Chiesa e Milik fino a Tonali l'altro mercato è già cominciato si discute di rinnovi cosa farà Zlatan commisso tenta il colpaccio con Fede e la Juve valuta un'iguaina cifre ridotte salviamo i campionati la parola di Gravina il presidente FIGC non è tabù il taglio degli ingaggi chiederemo di sforare a luglio sul possibile intervento sui super stipendi l'emergenza vale per tutti e penso che chiunque possa fare un piccolo sacrificio in questa situazione però andiamo a leggere lo scontro in Lega Lottito voleva ricominciare Marotta no prevale l'uniformità tranne che per le sedute personalizzate ancora prima della ripresa del campionato sono gli allenamenti essere motivo di scontro Lottito presidente della Lazio è il capitano della squadra favorevole alla ripartenza dall'altra parte la federazione dei medici sportivi ha ricevuto sostegno della dinerazzurro Marotta per sicurezza per tornare per Lottito esistono le condizioni di sicurezza per tornare a scaldare i muscoli e con lui gioca anche il Napoli l'idea era quella di darsi appuntamento al centro sportivo già nei prossimi giorni per sabato era fissato anche il ritrovo del Cagliari per lunedì 23 quello di Lazio Napoli e Milan per i rossoneri la ripresa era già stata posticipata di una settimana ma con l'idea di aggiornarsi in base alle condizioni sanitarie generali l'altro fronte segue la linea raccomandata dalla federazione dei medici per cui è doverosa la luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria raccomandare per le società professionistiche l'interruzione degli allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile stessa posizione della libera associazione medici italiani del calcio presieduta dall'ex responsabile dello staff medico nazionale Castellacci che esprime tutto il proprio dissenso sull'idea dei club di riprendere gli allenamenti precocemente prima del 3 aprile dall'altro invoca il principio di uniformità per Marotta il percorso da seguire tornare in campo solo all'inizio del prossimo mese dopo due ore di riunione di liti emersa una linea che l'assemblea dei club di venerdì trasformerà in disposizione ufficiale votata dalla maggioranza tutti in campo solo dal 4 aprile dato che permetterebbe alle squadre oggi in isolamento di aggiungersi alle altre decisione che privilegia il principio di equità gli allenamenti di squadra riprenderanno per tutti nello stesso giorno per non creare disparità di condizione vale per gli allenamenti di gruppo allo stesso tempo infatti non è escluso che alcuni club ripartano con una preparazione personalizzata o in piccoli gruppetti è nella facoltà dei club sotto la responsabilità dei rispettivi medici la ripresa degli allenamenti era già stata motivo di scontro il caso aveva alimentato una discussione tra lo stesso l'Otito Andrea Agnelli nel caso specifico il presidente Bianconero rimproverava l'Otito un interesse sportivo la Lazio avrebbe potuto tornare al lavoro mentre la Juve avversaria per il titolo restava costretta in quarantena una situazione comunque ancora più surreale difficile e il mio pensiero è sempre quello che di questo campionato di questo scudetto veramente si può anche fare a meno pagine dedicate all'Inter linea verde zanga nerazzurri 2.0 giovani e vincenti bastoni il simbolo Alessandro è titolare Pirola cresce con i big si lavora su Cumbulla e Martinez quarta leggiamo le nuove strategie sempre sulla gazzetta dello sport il più giovane presidente a Serie A non può essere favorevole non può non essere favorevole alla linea verde Alessandro bastoni è il simbolo un investimento da 31,1 milioni fatto crescere che sta scalzando Godin dalla posizione di titolare e poi si lavora anche per Cumbulla del Verona già bloccato a gennaio si è evitato che potesse finire al Napoli grazie anche alla preferenza del giocatore l'Inter gioca su più tavoli per bocca del vice presidente Zanetti è arrivata la conferma dell'interesse per Martinez quarta del River Plate tra i più interessanti del calcio argentino ha detto il vice presidente Nerazzurro e poi Lorenzo Pirola cresce già gli ordini di Conte potrebbe rivelarsi utile dal prossimo anno Martin Satriano classe 2001 già preso dal national uruguayano che ha iniziato ad allenarsi con la primavera prima dello stop e poi le parole di Skriniar passando da 4 a 3 dietro ho cambiato tanto il modo di giocare ora voglio segnare un nuovo gol la difesa tra di Conte gli ha tolto qualche certezza ma Milan Skriniar resta un pezzo pregiato della rosa nerazzurra da almeno due anni nel mirino dei top club europei lo Slovac è uno degli indispensabili di Antonio Conte che per lui stravede praticamente sempre in campo in Serie A a parte la squalifica contro l'Atalanta è stato risparmiato solo con la Fiorentina in Coppa Italia in Europa League in questi giorni di quarantena dopo la foto scherzosa in compagnia del vicino di Casabrozovic nel menu di Milan ci sono gli allenamenti voluti da Conte e dal suo staff per rimanere in forma ma anche le freccette e le serie tv da vedere insieme con la fidanzata e i due cani il momento è che stiamo vivendo è delicato ma lo possiamo affrontare tutti insieme come una squadra racconta via web rispondendo alle domande ieri dei tifosi nerazzurri eravamo abituati ad allenarci da piano il calcio ci manca manca a noi giocatori manca ai tifosi quando tutto questo finirà sarà ancora più bello tornare ad allenarsi tornare a giocare davanti al nostro pubblico le situazioni difficili sono così ti costringono a stare più uniti combatteremo questo virus è la cosa più importante tra una curiosità e l'altra con cui Skriniar soddisfa i tifosi nerazzurri tra il giocatore nerazzurro del passato con cui avrebbe voluto giocare Ronaldo e Fenomeno e gli attaccanti più difficili da marcare CR7 Messi poi Mbappé Ebrahimovic Skriniar parla anche della sua stagione sono tanti i cambiamenti che ho dovuto affrontare rispetto alla linea di difesa 4 ho sempre giocato così quando è arrivato Conte ci ha spiegato come fare stiamo lavorando per migliorarci sotto ogni punto di vista davanti a Andanovic il solo De Vrij è uscito indenne dal cambio tattico per l'olandese che gioca al centro è stato più semplice Skrini e Regodini invece a sinistra e destra non hanno sempre pienamente convinto lo slovaco però non ha mai mollato la ripresa come gli chiede qualche tifoso nel suo mirino c'è anche il gol che manca da due anni lo voglio anche io spero che arrivi presto queste le parole ieri di Skriniar addio però un colpo di genio fece la storia la grande Inter volò verso il mito l'ex attaccante spagnolo aveva 84 anni Popillo Di Herrera rubò palla al portiere del Liverpool e segnò nella leggendaria rimonta in semifinale di Coppa dei Campioni dalla Spagna alle vittorie internazionali con la maglia nerazzurra uno dei colpi dei grandi colpi dell'Inter di Angelo Moratti che vinse tutto in quegli anni indimenticabili per chi li ha potuti vivere o solo per chi ha potuto sentire i racconti dei propri padri dei propri nonni che dobbiamo proteggere soprattutto adesso in questo momento rimanendo in casa mi raccomando andiamo a leggere il Corriere dello Sport in prima pagina naturalmente la situazione del pallone i litigi per la ripresa degli allenamenti un po' di calciomercato un po' di situazione generale e poi una un'opinione raggelante un'intervista esclusiva all'immunologo Le Foch che dice che il contagio è esploso a San Siro in quella sera di Atalanta Valencia di Champions League e da lì che potrebbe essere nato quel contagio di massa che si è sviluppato soprattutto a Bergamo è un'ipotesi però raggelante e un motivo in più per cui bisognava sospendere tutto molto prima di quanto è stato fatto i club litigano sulla ripresa degli allenamenti e chiedono ai calciatori il taglio degli ingaggi nelle tasche dei campioni il titolo gravina la decurtazione non è un tabù ma l'associo calciatori frena spadafora spero che la torni in campo il 3 di maggio tensione tra Marotta e Lottito sui tempi la Lega Media sedute per tutti dal 3 aprile Zemai il mondo ora segue la Cina la mezzala ex Bologna si racconta da Hong Kong e caos giochi gli atleti al CIO fermiamoci ingaggi giù c'è il sì di gravina non è un tabù la crisi è per tutti ipotesi taglio tra il 20 e il 30% Ronaldo perderebbe 9 milioni il presidente federale apri la Lega chiede alla politica non soldi bensì nuove regole il manager branchini procuratore di tanti giocatori va fatto con misura ma i calciatori non scappano ora tutti pensano alla salute poi ognuno farà la sua parte la scala dei valori è cambiata motivo per cui appunto vi dico adesso si parliamo di calciomercato però tutto andrà rivisto ridiscusso dopo la ripartenza farlo adesso un po' prematuro ripresa allenamenti si tratta sul 3 di aprile l'accordo potrebbe essere ratificato domani durante la riunione della Lega in alcune regioni le squadre studiano sedute a piccoli gruppi turni alternati sicurezza la Lazio vuole aprire la strada però ve l'avevo già detto a me sembra così assurdo pensare a riprendere adesso gli allenamenti anche perché prima di maggio non si potrà ripartire 8 i contagiati la Samp è un caso in un'intervista poi ritrattata Ianto denuncia una situazione allarmante il cieco parla dei 15 positivi il club i calciatori sono 7 colpito anche il medico Alaves 15 positivi al covid 19 Atalanta Valencia è la partita 0 Francesco Lefosci immunologo intrincia contro l'epidemia anomalia di Bergamo forse paga anche quella partita a porte aperte il match di San Siro l'episodio più eclatante migliaia di persone così a contatto quella euforia allo stadio può aver favorito una forte replicazione virale prima che lo sport riparta occorrono certezze la Cina ha dato l'esempio ed è sicuramente la strada da seguire così come dice Zemaili il modello da seguire la Cina ora allo Shenzhen che adesso è a Hong Kong hanno vinto l'epidemia sigillando tutto in Italia e nella mia Svizzera dovrebbero comportarsi così abbiate fiducia la Repubblica Popolare ha dimostrato che uniti rispettando le regole sia la meglio su questo virus Cio Atleti è scontro sui giochi la linea di bacco ottiene l'ok dei comitati olimpici ma i protagonisti si ribellano fermiamoci tutti questo il grido di denuncia degli atleti e come dicevamo nei giorni scorsi anche un'olimpiade sarebbe veramente molto molto pericolosa con i contagi che potrebbero ritornare potrebbero riportare a un'altra ondata magari perché appunto la situazione nei vari paesi è molto differente come vedete anche la Cina ha chiuso le sue frontiere mette in quarantena tutti quelli che arrivano dall'estero proprio per paura di un'altra ondata dopo aver stoppato e quasi sconfitto il virus Juve c'è Tonali nel dopo Pjanic possibile rivoluzione a centrocampo la prossima stagione il bosignaco pupillo di Sarri potrebbe lasciare a giugno Paris Saint Germain City e Barca lo vogliono e la signora ha un piano il piano che invece vi dico io è appunto quello di prendere Tonali o Giorginio scambiare Pjanic con Icardi e dare Pjanic al Paris Saint Germain e la Juventus prendersi così Icardi a quali cifre però lo vedremo poi e capiremo soprattutto poi dopo la ripresa quello che potrà accadere rivoluzione inter attacco da rifare il reparto offensivo nerazzurro appare destinato a cambiare volto su Lautaro l'ombra del mercato e Sanchez non sarà riscattato l'unica certezza oggi è Lukaku e aggiungiamoci anche Salvatore Esposito che può continuare a crescere esponenzialmente anche un Pinamonti che potrebbe rientrare Giroud che potrebbe essere l'acquisto a parametro zero già svincolato per essere il vice Lukaku per il periodo sport sono pronti 150 milioni dal Barca per avere il toro Obama e Young per sostituirlo il gabonese dell'Arsenal che potrebbe essere la soluzione per il dopo Lautaro Martinez però tutto da vedere anche perché non penso che il Barcellona dopo questa crisi si possa presentare con i soldi 111 milioni della clausola rescissoria con un'offerta ancora più importante e pesante per il toro quindi bisognerà tutto vederlo dopo passiamo ai giornali politici al Corriere della Sera per non appunto farci mancare nulla adesso facciamo un focus su quello che sta accadendo nel nostro paese il blocco totale andrà avanti conte restrizioni anche dopo il picco il governatore Fontana tutti a casa o misure più severe pronti di vieti per l'attività all'aperto e limiti agli orari degli alimentari stretta sui trasporti più di mille guariti però 475 morti in un solo giorno nessun allentamento il blocco totale prosegue dice il premier Conte le restrizioni continueranno anche dopo che i contagi avranno raggiunto il picco il governatore Lombardo Fontana avverte o stato di tutti a casa o pene più severa svolta della BCE piano da 750 miliardi Brescia Bergamo i giorni più bui e non so se avete visto quell'immagine dei camion dell'esercito che trasportavano le bare ai cimiteri veramente toccanti e nel frattempo si sente una serena una sirena in sottofondo è quello che vi dimostra quello che vi raccontavo prima alimentari e jogging lo studio nuove regole i controlli segnalano ancora molte uscite ingiustificate l'ipotesi stop allo sport all'aperto e orari dei negozi ridotti limite ai trasporti la Morgese intensificare la vigilanza Firenze chiuse Fontane e Orti spiagge blindate in Versiglia la stretta da Bari a Foggia alta ai distributori di bibite e snack dopo Bologna in tutta la regione l'idea di serrare parchi e giardini il premier inevitabile allungare il blocco totale pronti a tutelare le aziende strategiche libereremo decine di miliardi di investimenti pubblici l'ipotesi di estendere lo scudo del Golden Power lo Stato non può fermarsi è il commento di Sabino Cassese e poi andiamo avanti con i numeri le parole del governatore della Lombardia Fontana vedo persone che non riescono a respirare e gente in giro a passeggio appello del governatore al rispetto delle misure adesso basta o interverremo ancora i medici in pensione chiedo di lavorare con noi Bergamo l'esercito porta le bare fuori dalla regione un momento tragico 65 salme verso Modena e Bologna lo stop all'ospedale da campo degli Alpini Gori polemico preoccupante segno di incertezza a Brescia fanno paura i 3785 positivi chi non ha un amico malato non può capire cosa succede il bilancio in un solo giorno 475 morti Lombardia la curva però rallenta dall'esercito al team cinese la sfida degli ospedali da campo i casi positivi dall'inizio dell'emergenza sono 35.713 ma aumenta anche il numero delle persone guarite l'80% delle vittime a oltre 70 anni e altre patologie mai tanti morti in un solo giorno neppure in Cina sono stati registrati così tanti decessi in 24 ore sono 2.978 dall'inizio dell'epidemia di coronavirus e la curva dei contagiati nazionali è ancora in crescita 28.710 il totale 2.648 tamponi positivi in più in 24 ore in terapia intensiva sono assistiti 2.257 malati crescono fortunatamente anche i guariti sono 4.025 1.084 in più le regioni e la corsa ai tamponi esperti divisi sugli asintomatici presso 5.000 al giorno ma su chi risulta positivo dopo i prelievi di sangue toscana al presidente Rossi non si può farli a tutti e questo quanto Milano la casa di riposo di 7 piani con 200 degenti 16 vittime la disperazione di medici e infermieri isolati lì dentro con il covid si stanno infettando tutti gli anziani in trappola con il virus veramente una notizia raggelante una situazione veramente molto difficile e poi i medici la rete di medici e ricercatori che stanno sperimentando la terapia con i vari farmaci in chat cercano di trovare il modo per sconfiggere il virus andiamo a finire la nostra lettura dei giornali con Repubblica per capire insomma anche un'altra visione della situazione il titolo è siate responsabili sono i giorni cruciali appello agli italiani della ministra Lamorgese restate in casa solo così possiamo fermare il virus pronta un'altra stretta vicina ieri i recordi morti mai successo neppure in Cina con 475 crescono i guariti solo SOS della Lombardia nuova missione per 7000 soldati BCE riunione d'emergenza 750 miliardi contro l'epidemia fiducia nel governo mai così alta per come sta cercando di rispondere a questa situazione complicata state a casa in 24 ore più morti della Cina Fontana escono in troppi serviranno altre restrizioni gallera in regione siamo all'ostremo a Roma proporremo di chiudere tutto nuove misure potrebbero riguardare solo alcune aree o tutta la Lombardia ma non è accettabile avere la metropolitana di Milano strapiena questo veramente è una cosa assurda e che non aiuta sicuramente il governo rilancia la Morgese nuovi divieti se non c'è responsabilità con la situazione ancora più d'emergenza Bergamo e Brescia naturalmente siamo vicini a tutti quelli che di voi ci ascoltano a quelle zone speriamo di darvi un qualcosa con questa mezz'ora quotidiana tutti insieme compatti uniti per ripartire solo così si può fare magari cercando anche un po' di leggerezza e pensare anche a quel calcio che ripartirà anche se non potrà essere tutto come prima dopo questa sciagura che ha colpito l'Italia al mondo ma soprattutto noi quindi mi raccomando sempre sintonizzati un po' Grazie.